Wow, ma ha un aspetto magnifico ragazzi! È per Natale! Avete ragione, manca qualcosa! Ma che cosa? Ma certo, le luci sono spente! Ok Walter, sarai tu ad accenderle! Siete pronti ragazzi? Contate con me! 3, 2, 1... Oh, non sta funzionando! Mmm, mi domando perché! Pensate che Babbo Natale non troverà il vostro albero se le luci sono spente! E ciò significa che non riuscirà a consegnare i vostri regali! Dobbiamo fare qualcosa e velocemente! Il super camion! Ma è una grande idea! Ehi Carla, cosa stai cercando? Babbo Natale? Ma non sarà in giro fino a stanotte! Ai piccoli serve il tuo aiuto in piazza! Le luci non stanno funzionando e loro hanno paura che Babbo Natale non riesca a trovare l'albero e quindi non consegni i regali! Esatto, una vera emergenza di Natale! Dai, andiamo a risolverla! Ehi, andiamo a risolverla! Lo so, è bellissimo! Ma le luci non stanno funzionando! Riesci a scoprirne la ragione! Riesci a vedere qualcosa di sbagliato! Una trasformazione! Bello! Ma in cosa? Un elicottero! Fantastico! Sarai in grado di risolvere il problema da lassù! No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Coraggio, Gary. Riesci a connetterlo. Mi ero dimenticato di quanto sei goffo, Gary. E ora puoi provare dall'altra parte. Ok. Oh no! Ma quella era l'energia di tutta la città! Carla, è meglio che tu faccia qualcosa. L'ST3000! Non vedo l'ora! Un raggio telecinetico! Ma è meraviglioso! Ehi! E sembra proprio stia funzionando! Super camion! Penso proprio tu debba rivedere il tuo obiettivo. Oh, vuoi un conto alla rovescia? Ok. 3, 2, 1! Bel lavoro, Carla! Fantastico! Avete fatto uno splendido lavoro di decorazione. A Babbo Natale quest'albero non sfuggirà sicuramente. Oh, mi sembra di sentire la slitta di Babbo Natale! Spero che quest'anno siate stati tutti buoni!